Allenamento a sorpresa per l'Arezzo. Niente seduta pomerigliana per gli Amaranto che hanno svolto un solo allenamento al mattino sul sintetico del Buon Conte da Montefeltro. Rispetto al programma stabilito inizio settimana, la prima squadra non si è recata la nave per svolgere l'unica seduta in programma nel pomeriggio. Moscardelli e compagni a sorpresa si sono ritrovati sul sintetico del Buon Conte da Montefeltro per un allenamento mattutino. Una sola seduta durante la quale Stefano Sottili ha improntato il lavoro in vista del derby. Ecco quindi un allenamento incentrato sulla tattica con mister Sottili intenzionato a utilizzare il 4-4-2 contro il Livorno. Unico assente Giuseppe De Feudis. Il mediano anche oggi non si è allenato con il resto della squadra. De Feudis è alle prese con un problema al polpaccio che lo ha costretto ad uscire prima dell'intervallo durante il match di Coppa Italia-Prato. Difficile dire se potrà prendere parte o meno alla sfida con il Livorno. Nel pomeriggio di sabato appuntamento al comunale alle 15.30 per una seduta alla quale è facile prevedere che prenderanno parte molti tifosi. Un modo per caricare la squadra che domenica svolgerà alle 10 la rifinitura a porte chiuse all'interno del città di Arezzo.